A voi tutti una buona giornata, cari amici di Agronotizie. Sarà un weekend caratterizzato ancora da caldo intenso, estremo sulle regioni meridionali, sull'area ionica, ma poi si allontana. Tende a livellarsi il caldo tra nord, centro e sud nel corso del weekend. Si attiverà dell'instabilità ancora nella giornata di venerdì, soprattutto sul nord-est, sui rilievi ma non solo, sulle regioni centrali, qua e là qualche rovescio di pioggia, sui rilievi in sconfinamento, con sconfinamenti al sud, come detto, caldo e bello. Sabato e domenica invece ancora della residua nuvolosità con addensamenti nubolosi tra le regioni centrali e i rilievi alpini. Al sud bello qualche nuvola medio-alta, ancora caldo, ma come detto tende a livellarsi. Attenzione però, si attiverà del vento da nord lungo il versante adriatico e al sud e si starà meglio proprio perché il vento sarà vivace, se non addirittura forte anche nella giornata di domenica. Vedete, è un po' piuttosto tranquillo, poche nuvole, pochi disturbi, ancora ventoso al centro e al sud, soprattutto sul versante adriatico. Per il momento mi fermo qui, cari amici di Agronotizie. Buon proseguimento di weekend. Arrivederci.